Ciao ragazzi, buon pomeriggio e ben ritrovati. Quello che state per vedere sarà un video un po' complicato da fare, devo dirvi la verità. Sarà un po' difficile perché non mi sono preparato scalette né niente, voglio andare a mano libera e vedere un po' che cosa ne viene fuori. Perché nelle ultime ore ho cercato di avere un po' di riflessioni interpersonali. Perché in primis a me non è piaciuto quello che è stato il mio atteggiamento nelle ultime ore, diciamo così, all'interno del canale YouTube. Per due motivi principalmente. Quella che è stata la mia reazione alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre-Juventus-Frosinone e quella che è stata la mia reazione a il post partita in generale di Juventus-Frosinone. Sono stato molto adirato nelle ultime ore e chi mi parla di Allegri e basta, commette un grave errore. Perché la mia rabbia, il mio nervosismo nasce dalla Juventus in generale. Perché questa stessa Juve è quella che solo fino a un mese fa a livello di risultati stava raccogliendo. Ma non è tanto il risultato quello che conta, secondo me, in questo momento. Perché la Juve che arrivi seconda o quarta, forse addirittura quinta, quest'anno comunque può comunque accedere alla Champions League. Quello che è l'obiettivo massimo, minimo, verrà raggiunto dalla seconda alla quarta posizione e forse pure con la quinta. Io credo che sia necessario però in questo momento distaccarsi semplicemente da quella che è l'analisi a livello del risultato. Quella è una conseguenza, è quello che poi verrà successivamente. Io la domanda che mi faccio e a cui mi do una risposta, la risposta è no, è la seguente. Quanto sono soddisfatto al 100% di questa Juventus? La risposta per me è no, e non parte solo da Allegri. Perché io anche ieri ho ribadito con forza, già nel post partita e anche all'interno della live, nella live reaction, che io sono tremendamente deluso da quello che è l'atteggiamento dei giocatori. Forse qui non si sta capendo che sia la Juventus. E la Juventus si lavora e si scende in campo sempre per cercare di confermare anche la permanenza alla Juventus. La Juventus non può e non potrà mai essere un club come gli altri, ragazzi. All'interno di quello che è lo Stato italiano, perlomeno. Per le ragioni più disparate, per quelle che conosciamo tutti. Ma la Juventus non è e non sarà mai una squadra come le altre. Sarà sempre una squadra nell'elite del calcio italiano. E se chiediamo anche all'estero, anche nell'elite del calcio europeo, nonostante purtroppo le sole due Champions League. Però la Juventus è un'entità che deve essere superiore sempre a qualsiasi tesserato. Non ci può essere un tesserato più ingombrante della Juventus. Nel momento in cui ci sarà un tesserato più grande della Juventus avremo un problema. Sarà un vero e proprio problema. E quindi vi dico, io sono molto arrabbiato con i calciatori. Perché la grande differenza in questo momento, oltre al caos che noto in Massimiliano Allegri, e lo noto in maniera concreta, è appunto questo atteggiamento dei giocatori. Tanti si stanno giocando anche magari un'eventuale riconferma. Dal punto di vista dell'atteggiamento, nemmeno delle prestazioni, dell'atteggiamento. Esempio, ieri Cambiaso non fa una partita eccezionale. Però quanto ci ha dato tutto dentro quella partita? Lo stesso McKennie ha fatto una prestazione in cui ha sbagliato dei palloni anche banali per quella che è la sua stagione, per quello che è il suo grado di maturazione attuale. Però quanto si è immolato, ecco, l'infortunio di McKennie, di un McKennie che sbaglia la giocata e poi fa di tutto per recuperare, esattamente, è quell'atteggiamento che mi fa impazzire all'interno dei calciatori. L'atteggiamento di McKennie per me è vita. È un proprio esempio di quello che deve essere un calciatore davvero dedito alla causa. Le lacrime di Cambiaso a fine partita, l'esultanza di Rugani, quella voglia di Vlaovic di farsi tutt'uno con il pubblico, con il popolo Juve, quella roba lì. Quella roba per me è la Juventus e quella roba lì per me è quello che deve essere il calcio. L'emozione che deve dare il calcio. Quell'emozione che io, purtroppo, ieri non sono riuscito a godermi al 100% per i motivi che ho già spiegato all'interno del video. Però io devo fare, per forza di cose, un passo indietro. Io non posso semplicemente arrivare a dire quello che ho detto ieri, che è una cosa che nella mia testa è sbagliata. Tutto quello che è accaduto per me è sbagliato. Cioè, ci penso a mente fredda, ma anche ieri sera a mente tiepida, ci pensavo e dicevo, è sbagliato, non va vissuto in questo modo. A bocce ferme è sbagliato. Poi quella che è la sensazione del momento diventa impossibile da domare, perché sennò si deve semplicemente recitare. E non è questo il caso e non sarà mai questo il caso sul mio canale. Però io sono arrivato a ragionare, sono arrivato a mettermi in dubbio, perché quello che è il contenuto che vi ho portato in primis non mi è piaciuto. E io so per certo di essere un tifoso viscerale. Io veramente vivo il tifo in maniera forse anche eccessiva. Io riesco ad avere delle emozioni altissime dal punto di vista positivo e altissime dal punto di vista negativo. Faccio fatica a controllarle. Quando sono esattamente, estremamente contento di una cosa, io c'ho un sorriso a 32 denti più forse anche 4 denti del giudizio. Quando c'è una cosa che non mi va bene, faccio fatica a mostrarla. Però io devo anche ragionare su quello che è il contenuto che vado a offrire a voi, quello che è l'output che arriva poi alle vostre orecchie e ai vostri occhi. Io sono il primo a dire che non è stato un bel contenuto. Nella conferenza stampa, perché ero arrabbiato per quelle che erano le considerazioni di Allegri, ma tantomeno non ero contento per quella che era stata la partita, perché ero deluso dall'atteggiamento dei giocatori. Delusissimo. Perché in casa col Frosinone, in un momento così difficile per la Juve, tu non puoi continuare ad avere questi momenti ballerini. partendo dai giocatori, arrivando all'allenatore. Bisogna ricordarsi che sia l'Aventus. Semplicemente. E non guardare solo il fatto che, va bene, dai, siamo secondi comunque prima solo l'Inter, perché questo è un discorso che poteva andare bene quando si scendeva in campo dando tutti il 100%. Tutti. Cosa che in questo momento non sta avvenendo. Arrivare secondo a meno 15, 10, 12, quelli che saranno, non è arrivare secondo a meno 4. Sono due concetti diversi. Sono due mondi diversi. Non bisogna solo guardare la classifica. Posizione 1, posizione 2, posizione 3, posizione 4. Cioè, se tutti quelli dietro di me sono più scarsi, allora magari arrivo davanti. Se quello davanti a me è terribilmente più forte, allora magari arrivo lì. Però la stagione deve continuare. Non può interrompersi, perché una cosa non è andata come volevamo. Non può essere semplicemente questo. E quindi la Juventus deve per forza di cose dare continuità a quanto di buono fatto nella prima parte. E poi arriviamo a me. Arriviamo a quella che deve essere per forza di cose un'autocritica, una riflessione personale. Perché devo migliorare io, in primis, dal punto di vista personale, è la prima cosa che deve migliorare dal punto di vista personale, trovare quell'equilibrio in grado di non fare queste montagne russe dal punto di vista umorale, ma soprattutto dal punto di vista professionale. Perché questo per me è un lavoro, è una professione a tempo non pieno, ma pienissimo, perché si lavora 7 su 7, non ci sono giorni liberi, magari ci sono dei momenti liberi durante le giornate, ma si è sempre costantemente immersi all'interno di questo mondo. Sempre costantemente immersi. E quindi io, dal punto di vista personale e professionale, devo cercare di migliorare per forza di cose, perché dall'altra parte c'è una community, c'è un pubblico che per fortuna è ampio, se non ampissimo, che siete voi, e avete diritto ad osservare dei contenuti che non siano sempre fortemente dettati da un'emotività che purtroppo, per fortuna, scegliete voi, all'interno della mia mente e della mia persona, è straripante. Concludo però con un appendice, ribadisco, non è mica solo Allegri, perché tante persone che si sono limitate al titolo e non hanno nemmeno o aperto il video o nemmeno commentato il video, commentato su altri social, sono andati direttamente al punto non hai esultato, perché sei contro Allegri. Ragazzi, il fatto che per me Allegri debba essere cambiato a fine anno è un dato di fatto che non arriva da questa stagione, arriva dalla stagione precedente, da prima addirittura delle dimissioni del CDA, per me Allegri non è natura giusto, per me è giusto che si cambi guida tecnica, ma fino a quando la Juventus rimaneva lì, ragazzi io ho sempre risultato per i gol della Juventus, per i risultati della Juventus e le vittorie della Juventus, sempre, e Allegri era in panchina, questa cosa non è cambiata, la cosa che mi fa arrabbiare è vedere questa confusione di Allegri, questo anche cercare di arrampicarsi sugli specchi, sempre, costantemente, per cadere sempre in piedi, e l'atteggiamento dei calciatori, sono cose che ho spiegato, poi purtroppo se le persone si limitano semplicemente a una deduzione, quello lì, se da un certo punto di vista devo migliorare io, da un certo altro punto di vista, bisogna migliorare un po' tutti, in generale, perché ieri sera mi è capitato di guardarmi Sky Calcio Club, il Senza Giacca, tramite lo Sky Go dei miei genitori, perché io non dispongo di un abbonamento a Sky, e io allora volevo andare un attimino a sentire quelli che potevano essere gli argomenti, le discussioni, i dibattiti, e ragazzi, purtroppo siamo arrivati a un punto in cui ho monopolizzato completamente l'argomento Allegri, cioè qui non si parla più di Juventus, adesso si parla di Allegri, ieri la Juventus batte il Frusione per 3-2, e il focus del Corriere dello Sport, l'editoriale di Zazzaroni è Allegri come Garibaldi, perché ha superato quota mille punti in Serie A, il primo nella storia a farlo, meraviglioso traguardo, qualcosa di fantastico, e non li fai per caso, mille punti in Serie A, perché è stato solo lui a farli, non li puoi fare per caso, è impossibile, però Juve è in secondo piano, è quello che vi dicevo prima, quando arriva a esserci qualcuno davanti alla Juve, che va a oscurare tutta la Juve, e diventa un problema, che era un po' il concetto che vi avevo espresso l'anno scorso, quando vi dicevo, il motivo principale per cui spero nel cambio di Allegri, è per tornare a parlare liberamente della Juventus, perché ormai è troppo monopolizzato il dibattito, Allegri monopolizza troppo il dibattito, è troppo tempo semplicemente che Allegri e Juventus, sono quasi dieci anni, anzi sono dieci anni dal suo arrivo, con due anni in cui è stato fermo, e un anno dei due era comunque tesserato a Juve, c'è troppa polarizzazione sull'argomento, ieri sera il dibattito senza giacca di Sky, era Allegrin o Allegri out, ma ragazzi ma può essere questo un dibattito, ma di Juve non si è parlato, non si parla mai, in questo momento di Juve non si parla più, questa è la più grande sconfitta in assoluto, e ve lo dicevo già l'anno scorso, speriamo che si arrivi a un cambio in panchina, perché è necessario tornare a parlare della Juventus, se la Juventus viene messa in secondo piano è un problema, è un grande problema, e poi perdonatemi, però un pochettino devo fare anche l'avvocato del diavolo, sono pensieri che ho fatto, quando sempre ieri sera al club, tra l'altro c'è stata una buona integrazione da parte di un giornalista del club, perché proprio Bucciantini va a fare la stessa analisi che avevo fatto l'anno scorso, e che riprendo fuori, proprio perché ieri sera è tornato fuori questo concetto, e cioè la Juve deve riessere messa ancora una volta davanti a tutto, deve essere i buoi la Juventus, non il carro, deve essere i buoi, ok? Questa è un po' la metafora che vi voglio passare, però ieri sera si è arrivati a dire che gli allenatori, vabbè, sono i calciatori, e allora l'utilità degli allenatori ho fatico a comprenderla, tant'è che il Bologna che sta facendo questa stagione qua, sì, sarà bravo Tiago Motta, ma Sartori, che mercato ha fatto? Dei calciatori fortissimi sono stati acquistati. Ragazzi, io credo che francamente questo sia anche un po' troppo, e quando si arriva a fare dei riferimenti di questo tipo, perché il discorso precedente era le green, alle green out, e Caressa ovviamente va confermato, rinnovato, perché ha raggiunto tutti gli obiettivi, e poi si parla di Tiago Motta, sì, vabbè, però che mercato che gli ha fatto Sartori? Allora, perdonatemi, provo a perdermi all'interno di quelle che può essere una previsione, io a questo punto inizio a pensare veramente che dentro la Juventus ci sia la volontà di salutare Allegri per far arrivare Tiago Motta, e che questi siano i primi tentativi per cercare di, far passare il confronto, no? Allegri come Garibaldi, ieri sera Allegri, miglior dirigente europeo, dice Caressa, invece Tiago Motta, eh però, guardate che mercato gli ha fatto Sartori, tant'è che poi gli domandano, ma scusa Fabio, ma tu Calafiori te lo aspettavi così forte? La sua risposta è comica perché è no, e quindi va a smontare completamente tutto il suo discorso, e tra Caressa e Allegri c'è un legame di amicizia, non lo scopriamo certo oggi, tra Allegri e Zazzaroni c'è un legame di amicizia, non lo scopriamo certo oggi, e quello che vi dico, quando arriva ad essere più la figura, allenatore, giocatore, dirigente, piuttosto che la Juventus, diventa un problema, perché poi nascono delle vere e proprie fazioni politiche, ieri sera Caressa ha fatto un discorso interessante, dicendo non bisogna partire con dei preconcetti nell'analisi, non se sono Allegri in vado tutto dalla parte di Allegri, sono Allegri out, tutta la parte di Allegri, ecco io, questo nel mio piccolo, per quanto possa avere sbagliato nelle ultime ore, sono convinto di averlo sempre fatto, questo credo che sia uno dei grandi pregi del mio canale, che per qualcuno è un grande difetto, perché qualcuno lo vede come uno, eh, gli sali sul carro di questo, quell'altro, io ragazzi sono nel carro della Juventus, sempre e comunque sul carro della Juventus, a prescindere da chi l'allena, io mi auguro che la Juventus possa arrivare quanti più punti vicino all'Inter, se non scavalcarla in una rimonta che ha dell'impossibile, spero che la Juventus possa vincere la Coppa Italia, spero che la Juventus possa non perdere più una partita da cui a fine stagione, ma sono fortemente deluso di quello che è l'output della Juventus da Empoli in poi, per questo sono amareggiato, perché considero che non sia stato fatto un lavoro eccellente nelle ultime partite, ma come loro devono fare autocritica, la devo fare anch'io, e devo semplicemente cercare di non farmi influenzare da quella che è un'emotività, in questo momento fortemente negativa, non posso nascondervela, è così, per forza di cose. Quindi niente, il discorso è il seguente, giocatori, allegri, dirigenza, tutti eh, in questo momento sono sulla graticola a tutti, perché una stagione dura da settembre, agosto quello che è, fino a maggio, giugno quello che è, non si può arrivare a febbraio e tirare il rim in barca, accontentandosi semplicemente di aver accumulato dei punti di vantaggio su quello che poteva essere considerato un obiettivo minimo, o l'obiettivo stagionale, a inizio stagione, perché significa che comunque i presupposti per andare avanti e fare comunque bene c'erano, ci sono e ci saranno, e poi, io lo dico proprio sinceramente, tra tre mesi, quando terminerà il campionato, sarei felicissimo, questo già lo sapete, di un cambio in panchina, non perché si gioca male, non perché Allegri mi sta sul cazzo, non per questo o quell'altro, ma perché inizia a diventare troppo tossico, troppo tossico parlare di Juventus, perché qualsiasi azione, qualsiasi parola, mezza frase, va a ricondursi a una scelta politica, destra o sinistra, Allegri deve in, o Allegri deve out, ora ragazzi, c'è tanto altro in mezzo, come c'è tanto altro rispetto a guardare la classifica e dire, beh, la Juve è seconda, quindi non ci sono problemi perché l'Inter è troppo forte, no, c'è tanto altro in mezzo pure lì, ciao.